In Gabon il presidente e rieletto Ali Bungori spedisce al Mittent le richieste di una nuova conta dei voti. Non posso infrangere la legge e chiedere che si ricontinu i voti. La sola possibilità è un ricorso alla Corte Costituzionale, ha detto, rispondendo alle accuse di frode e di regolarità nelle presidenziali del 27 agosto. Sarah Crozier, portavoce della missione degli osservatori dell'Unione Europea, abbiamo notato delle anomalie riguardanti l'affluenza nella provincia di Otagoe. I nostri osservatori sul terreno hanno constatato un tasso di partecipazione al voto differente rispetto a quanto è stato annunciato, spiega. Subito dopo le elezioni il paese africano è piombato nel caos. Diversi giorni di scontri e violenze hanno fatto un numero di morti tuttora impossibili da quantificare. Pesanti le accuse dell'opposizione dello sfidante Xi Jinping che, nel frattempo, ha autoproclamato la propria vittoria. La tattica adottata dalle sue truppe è stata quella di sparare a tutto quel che si muoveva, di uccidere delle persone. Erano seguiti da un'ambulanza, raccoglievano subito i corpi e li portavano via appositamente per rendere impossibile un bilancio reale delle vittime, ha detto il responsabile della campagna elettorale di Xi Jinping. A chiedere una nuova conta delle schede elettorali in tutti i seggi è anche la Francia, ex potenza coloniale, che mantiene una forte influenza sul paese africano.